Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Il Milan ha concluso, da una mezz'ora circa, la partita contro il Brescia. Un risultato positivo, Milan 3-Brescia 1. Positivo l'ultimo test prima dell'importante sfida, la delicata sfida contro lo Shamalock Rovers di giovedì prossimo. Il Milan ha vinto la partita grazie al gol di Chessy, grazie al gol di Colombo e grazie al gol di Castiglieco. Nel 74esimo il Brescia ha risposto un po' con orgoglio con il gol di Ghezzi. Da segnalare questa partita importante per l'esordio di Sandro Tonali e di Tatarugiano. Un Milan che è partito con la seguente formazione, è partito con Donnarumma in porta, con Calabria, con Chier, con Gabbia, Hernandez, Chessy, Ben Nasser, Castieco, Ciaranoglu, Saleme Kers e Colombo. Questa potrebbe essere, con un'unica modifica, ovvero Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco, potrebbe essere la formazione che potrebbe scendere in campo giovedì. Diciamo potrebbe perché Ibrahimovic sta recuperando una botta che ha preso, un leggero fastidio dovrebbe essere della partita di giovedì e il giocatore che potrebbe, diciamo, usiamo il condizionale, potrebbe giocarsi la maglia titolare con Saleme Kers, potrebbe essere appunto Brahim Diaz. Un Milan che ha dominato, ha giocato con un buon ritmo e ha trovato il gol con Chessy, su un calcio d'angolo, palone dentro, colpo di testa, molto abile, è stato abile fra Chessy. Gol di Colombo, Colombo ha finalizzato da pochi passi, da pochi metri da porta, un'azione che è stata prolungata dal reparto offensivo rosso-nero. E poi ha fatto gol Castilleco che ha sfruttato bene un cross di Calabria che ha controllato molto bene e con una grande capacità ha saltato un avversario e ha insaccato con il destro. Secondo gol consecutivo per Castilleco. Il Milan ha visto l'esordio al 73esimo di Sandro Tonali, Sandro Tonali che ha preso il posto di Ben Nasser e al 73esimo ha incominciato a dirigere il centrocampo rosso-nero, va a segnalare un gol che è uscito dallo specchio della porta. Il Milan, uno dei giocatori che è stato più incisivi oggi è stato Teo Hernandez, Teo Hernandez che è in continua crescita, e va segnalato anche questo aspetto, ovvero che la squadra ha, dopo l'arrivo di Brevice Chiera, alzato l'asticella per quanto riguarda la mentalità, per quanto riguarda la voglia di vincere. Anche Chiera oggi ha parlato post-gara, ha parlato di come la preparazione quest'anno sia una preparazione difficile, preparazione diversa rispetto alle scorse stagioni, ma come da giovedì in poi l'obiettivo del Milan è vincere ogni gara. Questa determinazione mi piace, questa determinazione, questa fame agonistica che hanno tutti i calciatori rosso-neri mi piace particolarmente. Quindi il Milan on plan, l'ha definito così, il Milan News di vittoria, il Milan che ha vinto tutte le vittorie, tutte le amichevoli di precampionato e comunque ha dimostrato già un buon rullino di marcia. Parliamo, passando ad un altro argomento importante, parliamo di calcio-mercato, parliamo di come il Lione sia fortemente interessato a Lucas Paquetà, avrebbe offerto Denayer, difensore del Lione, ma secondo quanto ci risulta, abbiamo verificato le indiscrizioni, quindi il Milan al momento rifiuterebbe l'alternativa, il difensore, la contropartita tecnica offerta al Lione, ma vorrebbe cash per Paquetà per rinvestirli su un altro profilo e in questo momento Denayer non interessa alla dirigenza e all'area tecnica rosso-neri. Il Milan per cedere Paquetà vuole almeno 23 milioni di euro per evitare minusvalenze a bilancio e per permettersi anche di fare un ulteriore colpo magari con la sua cessione, con la cessione di Krunic che settimana prossima dovrebbe, se non ci sono intoppi, dovrebbe essere definita. Prima di partire Krunic però il Milan dovrà ufficializzare il centrocampista, quindi uscirà Krunic, molto probabilmente magari dopo la partita contro lo Shamrock Rovers e entrerà un nuovo centrocampista. Dei segnalare il nome di Sumare che interessa moltissimo al Milan, ha rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro l'heal per lui dal club inglese, questo non perché il Milan offrirà 35 milioni di euro ma perché i rapporti grazie al fondo di 3 mila nel Lille anche grazie all'operazione Rafa Leao e il ragazzo Tiago Gialo che dalla primavera del Milan è andato al Lille sono ottimi quindi potrebbe arrivare Sumare magari con un prestito oneroso con un forte diritto di riscatto. Questa è l'operazione che il Milan vorrebbe imbastire visto che la trattiva con Bacayoko è fortemente in stallo perché il Chelsea non scende nella valutazione che fa del calciatore seppure il calciatore non rientra assolutamente nei piani dell'allenatore, dell'allenatore Frank Lampard. Queste sono un po' le notizie, il Milan in questo momento sta lavorando in sordina, calciomercato, aspettiamoci qualche colpo a sorpresa, ci ha abituato il Milan a lavorare in sordina, l'area tecnica rossonera lavora sotto traccia e questo fa ben sperare perché il Milan dagli acquisti che ha fatto, dalle campagne acquisti, dalla conferma di Zlatan, all'acquisito Nali e al prestito di Brahim Diaz ha voglia di puntellare la rosa e migliorarla sempre di più per far sì che il Milan possa tornare il prima possibile, ci auguriamo già da questa stagione, in Champions League. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.